La salvezza non è ancora in cassaforte, forse questa volta al Crema manca qualcosa, tuttavia il pareggio contro la León non va certo buttato, perché nella politica dei piccoli passi serve ad avvicinare l'obiettivo e a tenere a distanza quella che col passare del tempo è diventata una diretta rivale. Locali per primi vicino al gol quando Ferretti svetta su cross di Poledri, mandando la sfera di poco a lato. Il Crema insiste, ancora Ferretti, stavolta su imbeccata verticale di Mandelli, alza troppo da ottima posizione. Appena mette il naso avanti, passa invece la León. La giocata di Rondelli non perdona, in area di rigore. Il Crema non si scompone, continua a giocare, la peggior difesa del girone concede infatti spazio e ne approfitta Rinaldini che dopo uno slalom gigante, uno contro tutti, fa uno a uno. Ancora Rinaldini lavora per Ferretti, il cui tiro cross velenoso non trova sponde valide. Per Ferretti non sembra essere domenica, il 9 cicca così la conclusione da ottima posizione dopo un cross da sinistra. La León, in contropiede con Ferretti, tiene invece sul Chiva Lazziglioli che risponde presente. Ripesa, sempre vivace, nel segno di Rinaldini che impegna il portiere ospite, graziato poi dalla svirgolata di Ferretti ben liberato appena dentro l'area. Il Crema passerebbe in vantaggio con Ruffini, ma il gol viene annullato dopo un'azione da fermo per fuori gioco. Ferretti ci prova da fuori e per poco non brucia la rete. Poi quando Bigotto si inserisce su uscita incerta del portiere Pulse, il gol sembra fatto, ma la difesa rinvia sulla linea. Finale apertissimo. Finalmente Ferretti al 93esimo trova la rete tanto cercata giocando di sponda con la traversa dopo una bella girata, ma non si può festeggiare perché la Leona al 95esimo sull'ultima mischia trova il 2-2 direttamente su punizione di Moreo. Finisce così e per il Crema 1908 è un pari amaro che pure avvicina la salvezza. Grazie a tutti.